Anche questo è uno dei paradossi tutti siciliani, una girandola di politiche spesso contraddittorie, di progetti rimasti fermi, di annunce di passi indietro, dagli inceneritori agli ato all'apertura ai privati, passando per le ipotesi di navi container per portare i rifiuti fuori dalla Sicilia. La realtà è che ancora una volta la nostra regione si mostra incapace, non riesce a gestire, secondo una progettualità stabile, la raccolta e il trattamento dei rifiuti. La cronaca delle ultime 48 ore è esemplare. Dopo un breve ma intenso tir e molla con la Catanzaro Costruzioni, titolare dell'impianto, dal lunedì scorso la discarica di Siculiana ha riaperto le porte per 48 comuni del Palermitano e numerosi comuni dell'Agrigentino. Dopo che la RAP aveva detto di no all'immondizia proveniente da fuori Palermo per la discarica di Bellolampo, un'ordinanza del presidente della regione Crocetta aveva autorizzato i comuni a servirsi di Siculiana, che però aveva chiuso i cancelli. Un vertice con l'assessore regionale all'energia contraffatto ha per il momento sbloccato la situazione. Ieri sera è arrivata però la nuova presa di posizione del Lanci Sicilia per bocca del suo presidente, il sindaco di Palermo Orlando. È inaccettabile che le imprese private che in Sicilia gestiscono le discariche continuino a tenere in scacco i comuni, condizionando negativamente la vita dei cittadini. È necessario un intervento urgente che ponga fine alle eterne liquidazioni degli ato e che avviene il più breve tempo possibile la riforma del sistema integrato dei rifiuti. Ma Orlando è andato oltre parlando di un calvario per i comuni. Da un lato dice ci sono i privati che negli anni hanno acquisito il monopolio delle discariche, dall'altro c'è l'incapacità della regione di gestire e programmare la gestione integrata. Il punto oggi è proprio questo. il governo nazionale potrebbe a breve commissariare all'intero settore. Per il sottosegretario Davide Faraone il commissariamento dovrà realizzare ciò che la regione non ha fatto, ridurre da 18 a 5 gli ambiti territoriali, gli ato, e mettere in mano la riforma che avvì la gestione integrata. Ma l'emergenza resterà tale ancora per molto tempo.